Maria e Rita, due donne che hanno deciso di dedicare la loro vita al mare, trasformando quella che era una passione in lavoro. Maria Gregory si è innamorata della Calabria e con il suo compagno ha deciso di occuparsi di pesca turismo, un lavoro difficile che costa fatica e sacrifici, ma ricco di soddisfazioni. Vorrei far vedere alla gente la fatica, però anche la gioia di pescare qualcosa in mare, anche da vedere dove arrivano queste cose, perché spesso noi andiamo a ristoranti, mangiamo pesci, però non sappiamo da dove arriva. E poi c'è la storia di Rita Cima, operatore di pesca a marineria Diamantea, una passione, la sua, che si tramanda da padre in figlio. Il mare per lei è tutto, il mare è la sua vita, il suo lavoro che porta avanti con sacrificio, tante le gioie, ma tante anche le amarezze, come quando i gnoti le rubarono gli attrezzi per la pesca, mandando in fumo anni di sacrifici. Un'intimidazione che non l'ha demoralizzata, tant'è che si è rimboccata le maniche ed è tornata a pescare nel suo mare. Forse io dico che nel mio DNA c'è questa cosa genetica, cioè il cuore mi portava verso il mare, ogni cosa che mi succedeva dovevo andare là al mare. A volte ti scoraggi, però poi ti risollevi perché dici devo andare, il mare mi aspetta. Testimonianze raccontate nel convegno organizzato dal Consorzio Mediterraneo della Lega Pesca, che si è svolto sabato a Vibo Marina, un incontro per affrontare i problemi della categoria e per parlare delle opportunità offerte dai fondi comunitari, ma anche per discutere di pari opportunità tra uomini e donne nella pesca, un settore che da sempre ha visto nella donna una figura di primo piano nella commercializzazione del pescato, ciò nonostante senza le giuste tutele e riconoscimenti.